Buongiorno Guaio e bentornati sul canale di Undarionno oggi con la testa un po' più libera mi sono rasato i capelli perché fa un caldo poi avere i capelli lunghi mi fa sudare tremendamente non che abbia portato questo a benefici per quanto riguarda l'interno perché all'interno non c'è mai stato nulla comunque ragazzi, bando alle ciance oggi ragazzi parliamo come sempre di Napoli, parliamo di calciomercato ogni giorno qui escono 4796 notizie di calciomercato sul Napoli escono 4796 nomi però noi siamo qui a parlarne perché tanto non ci costa nulla prima di cominciare però ragazzi come sempre le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella ROAD to 400 iscritti mi raccomando iscrivetevi poi seguitemi anche sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione trovate i link in descrizione c'è Instagram, TikTok e Twitter iscrivetevi anche perché ragazzi più dell'80% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale quindi basta cliccare il tasto non costa nulla, è gratuito completamente quindi cliccate e iscrivetevi detto questo signori non perdiamo altro tempo, cominciamo allora oggi abbiamo da dire un bel po' di cose abbiamo precisamente 5 argomenti di cui parlare quindi non perdiamoci in chiacchiere la prima cosa ragazzi di cui voglio parlarvi è questa qui ieri è stato ufficializzato lo spareggio scudetto cosa vuol dire? praticamente a partire dalla prossima stagione ragazzi se due squadre, in questo caso non ho detto due non so cosa succede se sono tipo tre o quattro comunque nel caso in cui due squadre a fine campionato dovessero arrivare a pari punti ci sarà lo spareggio scudetto che consiste in una gara secca e al termine dei 90 minuti se si rimane ancora sul pareggio si va ai carci di rigore e non ai supplementari e io vi dico la verità non mi dispiace come idea penso sia un'idea abbastanza sensata e giusta perché comunque fa un po' male arrivare lì secondo però arrivare a pari punti però arrivi secondo che so magari perché hai scontri diretti a sfavore hai quel gol che hai preso in più che nella differenza reti ti condanna al secondo posto per me è un'idea molto interessante però state tranquilli perché tanto noi del Napoli sicuramente non affronteremo lo spareggio scudetto quest'anno ma proprio sicuro quindi spareggio scudetto in caso di pari da punti a me non dispiace come idea fatemi un po' sapere la posta nei commenti riguardo questo spareggio secondo voi è un'idea giusta o comunque non mi piace fatemi un po' sapere sempre meglio dei playoff ecco io i playoff ad esempio li odio li odio perché non esiste che una squadra che rivoltava poi si lotta lo scudetto lo scudetto deve vincerlo la prima però se ci sono due prime squadre allora là è giusto che si fa uno spareggio però molto meglio questo che i playoff per me detto questo signori passiamo alla notizia successiva il buon caro Andrea Petagna pare sia un obiettivo del Monza allora il Monza ragazzi sta a fare un mercato veramente sontuoso come direbbe qualcuno ha preso il Cragno ha preso la nocchia sta pensando di prendere i sensi ho visto l'altra volta addirittura pure Belotti a parametro zero cioè sta facendo veramente un mercato insensazionale il Monza del buon Berlusca e tra le idee in attacco appunto tra i vari Belotti c'è anche l'idea di Andrea Petagna allora Petagna come sapete ragazzi qui a Napoli è una riserva è una terza punta è la punta dopo Osiman e anche dopo Mertens ha giocato quest'anno secondo me il giusto è stato anche abbastanza importante ragazzi perché vi voglio ricordare che Petagna ci ha portato 6 anzi 9 punti ne ha portati 6 contro le Genoane che ci ha fatto vincere lui le partite con Genoa e Samp poi ha fatto anche il gol della sicurezza mi pare del 2-0 contro il Venezia al ritorno in trasferta quindi è stato anche lui decisivo nel cammino del Napoli che lo ha portato alla Champions il trasferimento a Monza per Petagna ragazzi vogliamo considerare un downgrade per la carriera perché comunque passi da una squadra che si lotta ai primi posti a una squadra che si lotta per il momento solo la salvezza però sicuramente andrebbe in un club dove lì è titolare certo quello senso potrebbe tornare il Petagna della Spal se ve lo ricordate io onestamente me lo terrei perché comunque Petagna come terza punta è tanta roba secondo me però se Spalletti ha consente e se Petagna ha voglia diciamo di rendersi protagonista ci salutiamo col sorriso grazie per tutto quello che ha fatto Petagna però se hai voglia diciamo di fare il protagonista ben ben diciamo fai bene ad andartene a Monza ecco perché tanto ragazzi a Napoli se di male farà sempre la riserva della riserva quindi va bene passiamo oltre allora ragazzi questa è la notizia di ieri in Napoli ritorniamo sul capitolo portieri allora due giorni fa diciamo che Meret era ormai prossimo al rinnovo fino a 2027 con 1,5 milioni di ingaggio bene ieri è uscita fuori questa notizia dal giornale Marca un giornale famoso in Spagna che dice che praticamente il Napoli starebbe accelerando per Luis Maximiano chi è Luis Maximiano è un portiere portoghese 23 anni e del 99 e gioca nel Granada un club spagnolo che diciamo ha finito la stagione con la retrocessione in Liga 2 si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni però l'obbligo scatterebbe nel caso in cui il Granada non riuscisse a ottenere la promozione nella Liga diciamo che si aprono vari scenari allora se dobbiamo vedere le due cose il Napoli rinnova Meret e poi prende Luis Maximiano secondo me due sono le strade una allora tu ti tieni Meret come primo però gli affianchi come un comportiere che può scalzarlo nel caso in cui Meret continua a dimostrare ogni tanto queste defianze ecco potrebbe essere una strada questa qui oppure la seconda potrebbe essere io intanto rinnovo Meret me lo rinnovo per altri 5 anni così bene o male il suo valore di mercato non si deprezza intanto lo mando in prestito con un diritto con un obbligo non lo so lo mando in prestito a giocare in modo continuo mi prendo Luis Maximiano in prestito così magari che ne so dice a fine anno Meret lo riesco a vendere col diritto e con quei soldi mi vado a comprare Maximiano potrebbe essere un'idea e ti prendi come secondo Sirigu quindi fa Luis Maximiano e Sirigu queste sono le due strade che io penso prenderà il Napoli io onestamente non lo conosco questo Luis Maximiano so soltanto che se non sbaglio è il secondo portiere della nazione portoghese sta dietro a lui Patricio quindi già che è nel giro della nazionale è buono diciamo non ha molte esperienze internazionali perché comunque giocando nel Granada non è che abbia fatto così tante così tante presenze nelle coppe europee però ragazzi se il Napoli sta prendendo questo portiere io mi fido mi fido di loro perché loro sicuramente sono più competenti di me vediamo come si evolve la situazione però diciamo ragazzi che a me ne importa qualcosa si sta muovendo ecco passiamo alla prossima notizia ragazzi questa è una bella notizia perché parliamo del rinnovo di Zerbin allora ieri la notizia è data Gianluca di Mars praticamente ha detto che il Napoli è molto vicino al rinnovo di Zerbin e praticamente ragazzi Zerbin attualmente ha il contratto in scadenza nel 2025 e si parla di un rinnovo fino al 2027 forse anche il 2028 queste sono le voci e questo rinnovo ragazzi è una cosa molto positiva vuol dire che allora il ragazzo effettivamente ha il potenziale ha le capacità per potersi giocare le carte in serie A bisognerà vedere se ha il Napoli oppure in un'altra squadra però comunque in serie A questo rinnovo è la prova del fatto che comunque il Napoli ci crede nel ragazzo perché altrimenti non gli vai a prolungare il contratto di altri 2-3 anni che già ti scade fra 2 anni ok quindi io onestamente sono molto contento di questo rinnovo di questi giovani che stanno uscendo fuori Zerbin Gaetano Zanoli Ambrosino sembra la nuova generazione che sta uscendo fuori dalla dall'avvivaio del Napoli promette molto bene quindi io spero che questo rinnovo venga fatto anche agli altri a Zanoli che mi pare che ha il contratto di scadenza nel 2023 però penso che per lui ci sarà sicuramente un rinnovo spero un rinnovo anche in Gaetano e anche in Ambrosino questi 4 giocatori ragazzi dobbiamo tenerceli stretti hanno un bel potenziale e il fatto che Zerbin rinnovi è un grande segnale quindi io sono contentissimo io vi ho detto già la mia su Zerbin secondo me Spalletti se lo porterà in ritiro e lo studierà bene se riuscirà a convincerlo allora Zerbin rimarrà in prima squadra altrimenti penso verrà ceduto in prestito che ne so alla Cremonese a Lecce comunque è una squadra che si lotta la salvezza dove gioca titolare però perché se ne va a fare anche io rimane a Napoli però io sono veramente contento di questo rinnovo e spero venga fatto anche con gli altri con Gaetano con Ambrosino e con Zanoli detto questo ragazzi arriviamo al clou del video alla notizia più importante che è questa qui allora ieri sera sempre il bun di Marzio a Calciomercato l'originale il programma che si fa su Sky di Calciomercato ha lanciato questa notizia allora a quanto pare il Chelsea è su Coulibaly perché su Coulibaly perché diciamo che le due prime scelte del Chelsea erano Skriniar e Delete però Skriniar pare che va dal Paris Saint Germain perché ha offerto tipo 70 milioni quindi sembrano cifre per il Chelsea fuori portata e poi l'altro Delete anche lui la Juve chiede molto e a quanto pare sta anche pensando al rinnovo con la Juve quindi questi due nomi per il Chelsea sembrano sfumati e allora il Chelsea per tutelarsi ha chiesto informazioni a Coulibaly per Coulibaly ha chiesto informazioni a Napoli per Coulibaly che potrebbe diventare a questo punto la prima scelta per il Chelsea io vi dico una cosa ragazzi allora è indubbio che Coulibaly meriti i palcoscenici migliori del Napoli questo dobbiamo dircelo chiaramente perché passare dal Napoli al Chelsea sarebbe il coronamento di quello di quello step finale che nella carriera di Coulibaly almeno per ora non c'è stato ovvero quello di andare a vincere perché ragazzi se tu passi dal Napoli al Chelsea vai in una squadra dove sicuro sei titolare perché Coulibaly è uno dei migliori difensori che abbiamo in Europa potrebbe giocare tranquillamente anche il Liverpool a fianco di Van Dijk per quanto mi riguarda potrebbe giocare a Real Madrid tranquillamente quindi tu hai accessi giochi sicuro ti vai a giocare alla Premier League ti giochi comunque le coppe nazionali che sono sempre prestigiosi lì in Inghilterra e ti vai a giocare anche la Champions cioè il Chelsea potenzialmente è una squadra che può vincere un trofeo l'anno prossimo e io non diciamo non lo biasimerei Coulibaly se decidese di andarsene perché comunque lui se lo merita anzi merita un salto diciamo uno step in avanti nella sua carriera lui ha sempre considerato Napoli la priorità e questa cosa è veramente apprezzabile perché lui veramente sacrificherebbe diciamo questa sua unica possibilità che ha per appunto fare questo step in avanti per rimanere a Napoli io onestamente ragazzi vi dico una cosa io dico sempre la stessa cosa cioè Coulibaly ha il contratto in scadenza secondo me Chelsea può essere pure che vada vada a Ramadani la gente gli dice facciamo un accordo verbale io ti prendo a gennaio a parametro zero così aggiungo poi vieni da noi non rinnovare il contratto che poi a gennaio ti prendiamo a parametro zero potrebbe essere una una soluzione io però dico una cosa cioè Coulibaly secondo me fino all'ultimo istante cercherà di strappare il rinnovo col Napoli io di questo sono certo perché lui ha sempre dimostrato amore dedizione e gratitudine al Napoli inteso come società ma soprattutto alla città e ai tifosi io su questo sono convinto quindi Coulibaly per me fino all'ultimo secondo proverà a rinnovare col Napoli magari anche cedendo sul lato ingaggi potrebbe anche sacrificare qualcosa di soldi non lo so però se lui decidesse di andare a Londra per me andrebbe bene perché vi ripeto uno come Coulibaly merita piazze più importanti di Napoli dobbiamo dircelo io spero che alla fine si risolva nel migliore dei modi io spero ovviamente che rimanga a Napoli perché avere un Napoli con Coulibaly è cento volte meglio che avere un Napoli senza Coulibaly se perdiamo anche lui che è l'unico diciamo elemento imprescindibile per Spalletti è veramente grave è veramente grave io continuo a pensare che nessun club cacci 35-40 milioni per un trentenne che tra un anno lo puoi prendere a zero io su questo sono convintissimo quindi per me il Cessi se lo vuole prendere lo prenderà a gennaio magari ripeto Badar Amadani dice noi ti prendiamo a gennaio a parametro zero voi però non prendete accordi con nessuno con il rinnovo potrebbe essere una scelta non lo so io spero che Coulibaly rinnovi spero solo questo poi per il resto ragazzi ripeto lui se vuole andarsene ha tutto il diritto di farlo quindi ragazzi detto questo questa era l'ultima notizia fatemi un po' sapere ragazzi la vostra su tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato fatemi un po' sapere la vostra sullo spareggio scudetto su Petagna al Monza fatemi un po' sapere su il rinnovo di Zerbin fatemi sapere un po' la vostra anche su Maximiano su Maret la situazione portiere e poi ovviamente fatemi sapere la vostra anche sulla situazione Coulibaly detto questo ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale mi raccomando roado tu 400 iscritti attivate anche la campanella così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video e seguitemi anche sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione trovate i link in descrizione detto questo ragazzi noi ci vediamo a un prossimo video forza Napoli sempre ragazzi sempre e comunque la maglia rimane detto questo ragazzi buona giornata buon buon giovedì buon mercoledì buon tutto buon tutto ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao